Una bella giornata di sole, anche se con temperatura frizzante, accompagnato il galoppo della Lucchese che al Porta Elisa ha affrontato in amichevole lo Scandicci, con pagine che occupa il terzo posto nel gironè di Serie D. Una volta le chiamavano amichevoli, oggi le chiamano allenamenti congiunti. In realtà Lucchese e Scandicci non si sono scannate, anche perché fra una settimana tornerà il campionato, quello vero, con tutte le ambizioni e la voglia di far bene dei rossoneri agganciati al Prato e in coabitazione con la Sanremese, ma anche dei fiorentini che nel loro raggruppamento, con 31 punti, guarda caso gli stessi della Lucchese, veleggiano al terzo posto, a cinque lunghezze dalla capolista Monterosi e a due dal blasonato Grosseto. Tutti o quasi a disposizione di Mister Monaco, non hanno giocato Benassi, Papini, Cruciani, Nannelli e Vignali, auta anche gli infortunati di lungo corso Lice e Ligorio, che comunque la prossima settimana rientreranno in gruppo, da verificare la loro disponibilità per la trasferta del 5 gennaio a Chieri. Ma il tecnico rossonero voleva capire soprattutto la condizione di forma dei nuovi e al di là del giovane portiere Luglio, chiaro che erano nel mirino Gallon, qui già da qualche settimana, ma soprattutto il centravanti Iad Aresta, che ha giocato titolare contro il Vado, dove è parso ancora bisognoso di trovare la giusta intesa a quei compagni. Il programma di fine anno, lunedì 30 seduta pomeridiana, mentre martedì 31 la Lucchese si allenerà al mattino. Breve rompete le righe per brindare al 2020, ma già nel pomeriggio di Capodanno, Nolè e compagni saranno di nuovo in campo. Oh my god!